L'avevano denunciato agli stessi familiari per le continue violenze subite. Dopo aver violato il dispositivo di allontanamento da casa, un 21enne è stato arrestato dalla polizia a Montevarchi in provincia di Arezzo. A carico del giovane, numerosi episodi di violenza sia fisica che verbale nei confronti dei familiari, avvenuti in alcuni casi anche alla presenza della sorella minore. Dopo la denuncia, il 21enne era tornato a vivere con la famiglia ed aveva continuato con le violenze, da qui la decisione del PM titolare dell'indagine di richiedere l'inasprimento della misura cautelare. Il giudice del Tribunale di Arezzo, in considerazione dei gravi episodi di violenza in cui il ragazzo ha dimostrato profonda aggressività con condotte auto ed eteroaggressive, come affermano gli stessi inquirenti, ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere con il collocamento in un'apposita sezione psichiatrica per garantire al 21enne un regime di trattamento terapeutico adeguato alle patologie riscontrate. Sono stati quindi poliziotti del commissariato di Montevarchi ad eseguire l'ordinanza.